Dieci, mai, mai, mai. Il computer portatile gli scivolò dalle ginocchia e stava per cadere a terra. Don Mario lo afferrò e sobbalzò. Lo doveva ancora finire di pagare, poi quella macchina era la sua fuga verso un orizzonte più vasto. Nel semibuio della stanza impostò la parola YouTube nel motore di ricerca e subito gli apparve l'amato canale. Con avidità ascoltò la voce cui si era abituato. La voce diceva Soggetto, ogni concetto non è mai la realtà e la realtà non porta mai il segno dei concetti e la realtà non porta mai il marchio della mente e la realtà mai, mai, mai è la vostra mente ma quasi sempre la realtà per voi è la vostra mente. La realtà che voi cogliete non è mai l'essenza è sempre la mente e anche quando vi sembra di cogliere la realtà state pur certi che in quel sembra c'è tutto il limite della vostra mente. Allora cosa è importante la mente o la realtà nell'una e nell'altra perché nel momento in cui pongo questa scelta voi con la vostra mente avete già dipinto quella realtà di cui io parlo ed è già mente. Allora, a cosa serve questo discorso? Soltanto a portarvi lì nel dubitare in continuazione che qualsiasi cosa io vi proponga serva a edificare non serve a edificare serve a demolire e che cosa demolite? Tutto ciò che non c'è e che è soltanto parto della vostra mente non c'è nella realtà è solo parto della vostra mente e la vostra sofferenza è in gran parte frutto di questa mente che costruisce sempre 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 sulla realtà e anche la vostra santificazione non è altro che un parto della vostra mente. La santificazione che cos'è? Il dissolversi delle vostre concettualizzazioni è l'aderire a qualcosa che non porta il segno di nulla allora non è più importante neppure la vostra santificazione ma è importante tutto ciò che accade 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 che vuol dire questa parola che abbiamo usato tante volte? Che cosa vuol dire accade? Questo è il mistero accade che voi perdiate la mente accade che la mente vostra sia messa in crisi ma anche in questo caso voi potete rimanere protagonisti perché riedificate e riedificando non fate altro che ridipingere la realtà serve ridipingerla? Certo che serve fin quando avete la mente ma il nostro compito è di ricordarvi che ogni volta che ridipingete preparate il trabocchetto a voi stessi e allora a che serve un cerchio medianico come questo giunti a questo punto? A ben poco se non accacciarvi lì nel non senso Il non senso che cos'è in fondo? Provate a pensarci che cos'è il non senso per chi ha deciso che con la propria mente non può più stringere patti Il non senso è tutto ciò che la vita vi offre per distruggere la mente ma la mente è così malefica? No la mente è ciò che non c'è c'è perché ciascuno di voi si identifica nella mente non perché la mente ci sia è così malefica è così malefica